Diamo il benvenuto in Media Plaza all'ingegner Mario Ciriolo di Stilolinea, società leader nella produzione di penne. Come mai la vostra società ha deciso di supportare il World Chamber Congress? Buongiorno a tutti, la Stilolinea ha deciso di supportare il World Chamber Congress perché vogliamo testimoniare con la nostra presenza il fatto di essere un'azienda come tantissime altre all'interno di un gruppo folto di piccole e medie aziende italiane che contribuiscono al 50% delle esportazioni dell'Italia verso l'estero. Nello specifico la Stilolinea esporta ben il 90% del fatturato in Europa e in alcuni paesi extraeuropei. L'azienda ha sempre investito molto e si è sempre aggiornata sulle tematiche relative alla comunicazione, all'informazione per poter superare facilmente le barriere e espandersi nei mercati globali. Questa è la prima ragione. La seconda ragione è che uno degli obiettivi strategici della Stilolinea nel futuro è quello di espandersi in tutti i mercati nei quali non è ancora presente. E per fare questo sicuramente è un ottimo punto di partenza presentarsi, iniziare a farsi conoscere ad un congresso delle Camere di Commercio per eventualmente poi nel futuro essere facilitati nel trovare partner o clienti nuovi in altri paesi in collaborazione appunto con le Camere di Commercio. E appunto per questo obiettivo come ha trovato l'organizzazione dell'evento? Dunque l'evento è sicuramente organizzato molto bene, ci sono sicuramente exhibitors interessanti, importanti di livello e quindi siamo sicuramente soddisfatti di questa nostra presenza e del fatto di poter sponsorizzare un evento importante a livello internazionale in una città come Torino che ha bisogno di farsi conoscere sempre più in tutto il mondo. Grazie a Mario Ciriolo